ATTENZIONE STA PER COMINCIARE K-PRODUCTION Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dragon Ball Z Dokkan Battle allora ragazzi oggi ho fatto questo video speciale per voi perché praticamente spacchetterò in occasione del Dual Dokkan Festival di Janemba e Gogeta il nuovo Janemba e il nuovo Gogeta questo è il mio secondo spacchettamento dopo gli spacchettamenti dei ticket del pene che avete visto all'incirca non so quanti mesi fa che c'è stato comunque adesso vediamo innanzitutto la novità che c'è stata rispetto alla versione giapponese è che praticamente ui che è sta multisummon da 10? multisummon da 10? da 10? che c'è? da 10? ma che? e che è sta cosa? hanno messo dei pacchetti in più hanno messo i pacchetti pure con i ticket ma che? vabbè allora allora cos'è che è? festival exclus, character guaranteed con il ticket summon A e come faccio ad avere il ticket summon A? vabbè allora ragazzi innanzitutto vediamo un po' di cose sono cambiate le bacce cioè i personaggi che stanno dentro i pacchetti perché? inizialmente si era deciso di fare come fu per l'ultimo Dual Dokkan Festival dove da una parte c'erano i buoni dall'altra parte c'erano i cattivi qui praticamente hanno fatto che hanno fatto un mix mettendo però alcune carte che sono vecchie come in questo caso Freezer, Tech, Super Boint e Trunks quello con la spada della speranza diciamo così e in più hanno aggiunto da una parte Omega dall'altra parte Gogeta ora io mo sto notando che la differenza sostanziale tra questi due pacchetti è che di buono c'è che nel pacchetto dei cattivi c'è anche un altro Neo God Leader cioè i God Leader quelli che danno più 120% a in questo caso c'è Cooler che è praticamente fatto per i mazzi fisico quindi arancioni ma cattivi quindi qui ci sono tre carte interessanti cioè Cooler Gogeta che in questo caso a me sarebbe un doppione e poi Janem a me manca anche quel Vegeta quindi anche qui poi faremo spacchettamenti adesso ragazzi apriamo i pacchetti e vediamo un po' che cosa succede e speriamo bene che ci faccia la grazia il gioco oh cominciamo con 5 navicelle il che è buono tira questa oh by guys forse forse by guys forse no niente by guys no come fa a non essere senza by guys dai come fa a essere senza by guys ah ma perché tre perché tre perché tre perché tre scusate dovevano essere vabbè ma vediamo che altro succede quattro navicelle oh rainbow vediamo che altro succede adesso tanto le stone ne abbiamo ragazzi due by guys no abbiamo ottenuto un altro un'altra ancora mamma mia quando ne ho di quest super boo che ha assorbito gohan goku goku questo non me ne frega niente di baby oh questo c17 ah madonna stavo insultando per un altro omega invece no sin sharon beh oh in 5 carte un altro super boo mo facciamo questa multisummon da 40 si vabbè non me ne frega niente dice in poche parole che sta pieno il il costo dei personaggi l'inventario vabbè vediamo mo uno due tre quattro sempre quattro rainbow ah se non si trasformava era meglio era un by guys assicurato vediamo super saiyan uno super saiyan due niente tre che cosa ci dai rai adesso un gioco tutte merda stanno uscendo per ora a parte quel super boo c'è un altro sin sharon che è barter ma dai 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 cazzo sei che cazzo di carte do dorian nemmeno un ssr già cominciamo male no facciamo la multisummon gratuita vediamo un po' che altro ci esce mister satana a destra mannaggia deramels era a sinistra oh super saiyan istantaneo vediamo una due radish mannaggia no 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 che cazzo di carte che merda di carte dai mamma mia che cazzo di carte un altro ma quanti me ne da di questo questo vai a vedere che ci avrà una probabilità alta di uscire vabbè 5 10 15 mamma mia mo torniamo mo apriamo l'altro pacchetto andiamo ad aprire il pacchetto dei cattivi sperando che ci vada ci va di meglio multisummon tanto le stone le abbiamo il problema è che non ho trovato niente di quelle cose che mi servivano uh niente navicelle super saiyan uno due qua devo trovare almeno qualcosa che mi serve perché poi forse dobbiamo ritornare sul pacchetto di gogeta trunks il transessuale c18 janemba eh però janembo beso magari janemba janemba in zone allora continuiamo uh mister satan a sinistra magari bye guys dammi bye guys dammi bye guys bye guys it's over free uguale dai dai mo mi da un ssr per forza vediamo chi è chi è chi è non è ancora uscito uh questo goku questo goku qua a me serviva per fare bene il mazza gl ma vedi ma vedi solo che non è uscito non sono uscito le altre carte interessante a me poi facciamo un'altra multi summon uno due tre quattro e cinque cinque navicelle rilascia vai uno due niente tre tora tora oh si vai 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 cura che non sanno manco tradurre il nome che cazzoni si vai alla grande vai abbiamo trovato un neo god leader che mi mancava vai vai va le altre carte tutte merda sono uscite oh e chi è questo vedete super saiana questa è una delle carte delle prime carte uscite del gioco proprio dopo SSR va bene tranquillo vai ci manca solo che troviamo nella janemba e siamo a post perché abbiamo trovato le due carte che mi interessavano dei cattivi dai forza multi summon gratuita dai pezzo di merda del gioco dai uno due tre tre navicelle mannaggia eh non si è trasformato speriamo che bye guys oh che chi è scemo che cosa uscirà adesso che cosa uscirà che cosa uscirà madonna che cosa uscirà adesso chi è no mannaggia che chi è che è sto Goku qua che è sto Goku magari un'altra SSR ci voleva adesso oh vai ma guardalo quanto è bello lui il doppione abbiamo trovato ma guardalo guardalo che bello vai janemba ciccione ma vai cacare vai ci voleva anche janemba quello nuovo però mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia c'è la polizia allora adesso noi facendo altre tre multisummon otteniamo una gratuita su un altro pacchetto ora però prima apriamo con sti ticket del pene vediamo un po' cos'è che succede cos'è che dice ah beh che dice che i personaggi stanno oltre il limite di 49 mamma mia magari immaginate con sti ticket facciamo una single summon otteniamo gogetta magari no un goku abbiamo un altro ticket oh non si è trasformato prima by guys così l'ho avuto attenzione no troppo bello per essere ah però e che è qua attenzione tante navicelle belle super saiyan dai un bel super saiyan 3 fammelo dai uno due dai dai chi è uh super saiyan tranq steen vabbè ma questo sarà una merda sì è quale una merda purtroppo una vecchia carta ma andò pure ste carte ma sti sti ssr inutili proprio addirittura extreme damage fa nemmeno supreme ah zarbon il barbo la priorità la dobbiamo dare a gogeta secondo me questa è una mia teoria per avere un ticket di quelli garantiti questi qui forse bisogna fare 3 multi summon per avere il ticket ma proviamo 3 multi summon proviamo a fare la prima multi summon su gogeta magari lo troviamo ma basta che trovo lui anche rage trunks cioè trunks quello con la spada mi interesserebbe uh no no mannaggia un release rainbow ma tu si e poi guys questo è ssr assicurato vai 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 thank you palle del drago si oh vabbè questo ormai abbiamo capito che ci vuole rompere i coglioni oggi dai dai chi è chi è no mannaggia i morti chi è sto trunks che è quel transessuale di merda dai abbiamo avuto bye guys e manco vegeta che non mi interessa mannaggia che cazzo che cazzo un altro ma londa mia non è possibile non è possibile cioè io di questo praticamente a questo lo faccio rainbow lo faccio mamma mia doppio ssr in un cioè cioè non l'abbiamo trovata quel maledetto gogeta molti summon di nuovo dai cazzo dai porca puttana basta darmi super boo tre ehi saian istantaneo vai uno due dai dammi not bye guys niente oh va bene gold cicciabombolo barter schifoso c18 che me ne faccio un cazzo super c16 c7 cicciasse magari super c17 non ci sta sto pacche siiii 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 siiiii siiii cazzo siiii 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 siii siiii tanti abbiamo fatto che gli abbiamo rotto i coglioni tanti abbiamo fatto che l'abbiamo trovato siiii Sì, vai, vaffanculo il resto Sì, cazzo, sì Sì Oh Ora Ora A sto punto facciamo un altro multisummon che ce ne regalo Un'altra gratis e dopodiché su Janemba Facciamo le single summon che ci rimangono Ma ragazzi Immaginate pure che troviamo pure il doppione Immaginate che troviamo pure il doppione Ah, quattro navicelle Sodiano istantaneo? Vai, vai, dammelo un altro, vai Vai Uno Due Niente, vai, vai Goku Ah, questi riff qua Questa testa di cazzo Yacon Yamu Selva, vabbè Che cazzo di carte di merda Oh Mamma mia Oggi è proprio la giornata Se ve lo state chiedendo il tremuto, eh Allora Abbiamo trovato Madonna mi Abbiamo trovato il doppione Di Omega Sharon Il doppione di Omega Sharon Eh, è un altro scene Sharon C'è Io Non ho parole Non ho parole Facciamo quella gratis Ma no C'è mo' veramente Manca solo Che ne so Che altro stava che mi interessava Trunks Quello con la spada Non lo so Dammi Trunks con la spada Non lo so Cioè Mamma mia Bye guys Di nuovo Vai Bastardo Thank you Palle del Drago Vai Chi ci darà adesso Doppio gogetta Ma guarda Ma guarda Che giornata oggi Chi se l'aspettava Ma guardalo Doppio gogetta Ma vedi tu Doppio gogetta Cioè Che giornata oggi Che giornata oggi Mo' manca solo Trunks E abbiamo completato Dai Dammi il transessuale Dammi No non me lo da Il transessuale Non me lo vuole dare Va bene Ed è finita Mamma mia Pure questo Festival Esclose Character Mo' ci darà Un personaggio SSR Sicuro No vabbè Vediamo Vediamo Che cosa ci da Ci darà Uno Per forza Tra questi cinque Quindi O un altro Omega O Freezer O Gogeta O Superbow Speriamo di no Vischietando Li ho praticamente Fatto al pieno Con oggi E poi Trunks Con la spada Che mi interessa Vediamo se magari Troviamo un altro Gogeta Ancora Un altro Omega Sarebbe buono Sarebbe buono Oppure In linea diagonale Vediamo 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 Che cosa uscirà fuori Adesso Vabbè Ora farà Farà un altro By Guys Una cosa del genere Farà qualcosa Che ci darà L'SSR Eccolo L'ho detto Io Super Saiyan 3 Qualcosa doveva fare Vediamo Oh Eh manneghiattai Mi vede la cosa Più inutile Che Che poteva avere Freezer Cioè vabbè Vabbè Mi ha dato freezer Non va niente Il frigorio Era la cosa più inutile Cioè tutte quelle cose Che stavano Vabbè Ok Niente Adesso Praticamente abbiamo Quasi finito Le Dragon Stones Facciamo solamente Le single summon Perché qua Praticamente A me serve O quel vegeto Oppure vabbè Gianemba Ma vediamo Perché Io con i rossi Ragazzi sono sfortunato Cioè io ho proprio Questa malattia del rosso No No Stavolta No Dici voi assai E cazzo Li vuoi trovare Veramente tutti Intanto Finora Quanti personaggi Abbiamo trovato Boh Non si capisce Quando li abbiamo trovati Chi è Ah Majin Bu Pura malvagità Io mi ricordo Che di questo C'è un SSR Qua uscirà Una merda Forse Sì Una merda Barbon Zarbon Chi è? Ah no È Goku Goku Super Saiyan SR Gli ultimi due Single summon No Mannaggia Chi è? Che faccia di cazzo Recom L'ultima Single summon No Niente Vabbè Vabbè Quindi Quindi Ci manca solo Gianemba Che non abbiamo trovato E vabbè Dai Però abbiamo trovato Il mondo Cioè io C'è da spaventarsi Qua dentro Scusate C'è Cioè mo c'è da spaventarsi Cosa sta Cosa ho trovato Qua dentro Scusate che vado veloce Allora ci sta Questo Goku Qui Super Saiyan Blu Che mi serviva Poi ci stanno questi Sin Sharon Che so più o meno Cosa poterne fare Poi Vediamo Cos'è che stava Di interessante Ah dei blu Dei blu Non c'era granché Oltre a quel Goku Poi abbiamo trovato Un altro Gogeta Sto Vegeta Qua che non mi piace Proprio Poi Golden Freezer Che altro Sta qua Andiamo più giù Ah Poi abbiamo trovato Ben due Mamma mia Due Gogeta Poi due Majin Bu Che hanno assorbito Gohan Quel Trunks Che non mi interessa Lì Rossi Vedete Niente Cioè il rosso Aveva proprio sfortunato Poi mi dimenticavo Che abbiamo trovato Un altro Oltre Oltre a Gogeta Di nuovo oggi Abbiamo trovato Un altro Neo God Leader Che è Cooler E poi abbiamo trovato Anche il doppione Di Omega Cioè l'ira di Dio Poi quel Trunks Vabbè che ho già Quindi anche qua Gli può sbloccare l'abilità Cioè un macello Ragazzi Un macello Va bene ragazzi Va bene Allora peccate Che non abbiamo trovato Gianemba Sarà prossimamente Lo troveremo E niente ragazzi Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Dovete vedere Quando è piaciuto a me Vabbè E ci rivediamo Ad un prossimo Video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti